Buongiorno, siamo sempre qui nello stand di CNA Commercio del Cv5vie. Diciamo che questa è la nostra parte benefica, cioè il nostro tempo che noi dedichiamo come volontari per un'associazione molto importante del territorio spezzino e della provincia di Massa. Non tutti sanno che Amici di Elsa si sta dando molto da fare per i nostri bambini disabili nel nostro territorio. Oggi sono qui con noi dal 16 marzo fino al 24 marzo in fiera campionaria, hanno lo stand CNA Commercio per fare una cosa buona. Cosa potete fare? Venire ad acquistare un biglietto della pesca di beneficenza. Avrete in cambio un bel calendario dove sono rappresentati in maniera simpatica tutti i bimbi dell'associazione Amici di Elsa. Oggi qui abbiamo una delle mamme che fanno parte dello staff e del direttivo che sono qui con noi nel nostro stand per fare insieme la differenza. Grazie ad Amici di Elsa.